E' papà blu, e' papà blu, e' papà blu C'è una volta nella vita di Gilbert Nanà che non dice papà blu e sdrongo o ministri? Gilbert, c'è un altro amico di papà blu che vuole essere incuronato Chi, chi e' l'amico di papà blu, chi? Così lo faccio entrare Oh no no, no no, io non entro a nessuna parte zii Oh c'è French, aspetta, aspetta ragazzi, aspetta, io apri la porta Aspettate ragazzi, io apri la porta di un amico di mio padre e della famiglia bro Dì a Frank di scrivere, così posso lo seguire, dì a Frank, saluta Frank, amico di re Giulio di scrivere, io non vedo nessun messaggio Sto guardando, non lo vedo ancora Ciao Alessandro No non ha capito che so io regà, non ha capito Non è French, non è lui Sì che sono io Non è lui, non è lui Sono io Sono lui Sì, sono io French Mi senti? Ti senti benissimo, tu come stai? Due settimane fa Io e Rugani avemmo giocato a torneo su Fortnite Allora io gli ho fatto Ma te lo sai Rugani che c'è sta Gilberto Che c'ha il record dei palleggi E lui guarda Va su Internet Sì, sì Tu puoi vedere Carichi su Instagram e non taghi a me Eh no Gilberto No no, 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 no Alessandro ti chiedo scusa Io ti dico la verità, ti chiedo scusa Adesso, adesso, adesso mi ricordo Ti chiedo scusa fratello, ti chiedo scusa Io ricancello il video e lo metto ancora Perché la famiglia La famiglia si rispettano Capito un po' quello che dici? È così La famiglia si rispetta Però io non so French No, io no ho francese No, 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 no No Calma, eh? Tu come stai fratello? Tu come stai? Sto bene, sto bene E io sono andato abitata solo poco tempo fa Quindi mi sto un attimo ancora abituando È un po' difficile Tutta merda qua, guarda Qua c'è tutto pollo Che non ho cotto bene qua dentro Guarda che schifo Devo ancora tutto Tutta io, guarda Guarda, guarda Guarda che schifo Guarda i bocconcini di pollo Guarda, guarda che schifo Guarda Guarda che roba Tutto, tutto Tutto duro Mamma mia Tutto duro quasi Il ben, casino E papà ha detto che abbiamo nominato Manuccio come prima ministra Abbiamo nominato, abbiamo nominato Francesco Mazzano come ministro dell'esterno, capito? Estero, estero Sì E adesso c'è ZV che ha detto l'altro giorno Lì vuole essere nominato ministro dell'economia Allora io, io ho deciso una cosa Io vorrei venire a fare il porta borracce Porta borracce? No, tu sei della famiglia? No, no, no No, merito un posto più elevato lì dentro No, no, no Perché c'è anche Campolunghi Campolunghi Sire il ministro dello sport Te racconto sta storiella Una volta, anzi due Una un po' più corta Una un po' più breve Allora una volta Spesso e volentieri Abitavo con nonno e nonno E quindi loro Sono sordi, capito? Loro non ci sentono tanto Quindi io invitavo Quando ero un po' più giovane Le pollastre a casa Però dato che ero un po' alle prime armi E sono stato sempre un ragazzo Che il preservativo non l'ha mai utilizzato Io quando dovevo tirare fuori il pesce Schizzavo sui muri Un picchiatina sui muri Però il problema più grande Qual è stato, Jill Beck? Che l'unica volta che mi sono fidanzato Te sei mai stato Penso che anche te C'è avuto qualche ragazza Allora io non c'ho la patente A 25 anni La patente no Mai avuta E mi facevo sempre Porta in giro Dall'ex ragazza mia Allora una volta Sai Ma è con la ragazza È estate Io vivo vicino al mare Vado al mare E arriva la sera E c'avevamo voglia De fa' bugi bugi Capito? Allora Entrami in macchina Lei inizia Capito? Inizia un po' a scaramellare Come se fosse una caramella Capito? Te la caramella La inizia a leccà La gusti un pochino Capito? E io al momento Dell'esplosione Al momento dell'eruzione Del vulcano Io apro Lo sportello Della macchina Cioè della macchina Però in quel momento Veniva su una macchina Con i fanali Belli accesi Allora io che faccio? Lo tiro a di dentro E pam Parte uno schizzo Sul cruscotto Il problema Che la macchina Era della madre Tutta la tappezzeria Tutta sporca Io Servono un'ora Quindi Cioè io Io purtroppo Con il becio Ho avuto tante disavventure Ultimamente Rifletto Sul fatto Che Se dovesse avere Adesso c'ho una ragazza Se dovesse andare male Male con lei Vado con un ragazzo Prossima relazione Tu Tu sei interessato Nel caso? No 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 Niente no Gilbe io Io te voglio bene Io ogni tanto Mi guardo Dei video Tu quando giochi a calcio Gilbe Tu bisogna che ti metti Mutandoni del nonno Perché se ti metti Il pantaloncino attillato Con lo slipetto Gilbe Se vede una mazza Così dai video Ci bagano così Cioè Io Io Non so più Come ditelo Silbe La vede Sto Sto pitone Che manca Allo zorro Qual è Qual è il tuo piatto preferito Un giorno Te lo cucino Il mio piatto preferito Mi piacciono L'assai Invece come secondo piatto Carne Carne Le mangi Pesce Pollo Io mangio tutto bro Tutto mangio Un giorno Ci penso io Te faccio Questo Gilbe è per te Guarda qua Questo Questo è per te Te faccio Un po' Dei ravioli Te piacciono i ravioli Capito Sì 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 Le faccio sto raviolino Alla boscaiola Con panna Funghi Porcini E salsiccia Tutto mixato E dopo non vai all'ospitale Dopo la mia pancia Sta bene No tranquillo È il sugo alla boscaiola Ricordate il sugo alla boscaiola Perché appena te veno Te lo preparo Guarda qua quante salsicce c'ho Perché con la mia Non ce famo niente Ma guarda qua Alla esattiva Gilbe Gilbe te posso fare una domanda Un po' privata Ma qua dentro La vedi la confezione Sì La salsiccia tua Ce sta? No Ma Gilbe Questa è la confezione Da 10 chili Cioè da Scusa Da un chilo De salsicce Guarda Lì non potevamo Faggare Avevamo capito Ma te Un muscolo così Ce l'hai? Eh? Sì Penso che sì Sei sicuro? Sì Sicuro Però Gilbe Io ho visto il pallone d'oro femminile Io ti favavo per voi Sì 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 Ma comunque La ragazza che ha vinto Era forte Però Era forte Ne sapeva È una ragazza sportiva Ce la vedeva Perché è una ragazza Che sportivamente Fa uno sport Capito? Sì ma Gilbe Cioè la gente come noi Cosa fa? Non molla mai E ma perché ha mollato? Beh comunque L'altra ragazza La fidanzata di Henri Henri Lams Lui La sua fidanzata è forte Però ti dirò La verità è forte Oddio Dopo stasera Oddio Perché Io ho la febbra Da quasi 3-4 giorni Quanto c'è? Io ho la febbra Io ho la tos E tutto Oggi volevo provare un po' Sono andato in farmacia Io ho preso tutte queste cose Oggi Volevo provare un po' Stasera Vai Fai un po' Di allenamento Capito? Però Gilbe Non puoi prendere 10 pasticche diverse Te fa male Beh comunque Adesso io ho preso due E dopo Domani C'è l'altro Che devo prendere Perché me Dico chi mi ha prescritto Tutte queste cose Davvero Sei in grande Ti giuro Nessuno Non mi ha mai fatto Un video Come ci mi ha fatto Io sono sui social Mettete la verità Sono sui social Da quasi un anno Sei mesi Nessuno mi ha mai fatto Sentivo male Ti giuro Con due cose Che schizzato Gilbe Mi saluto Però prima di salutare Te faccio vedere Il gatto mio Dimmi se ti piace Poi di se non ti piace Ok Va bene Oh che bello Che sei Come si chiami? Eclisse Ragazzi guardate Che bello Che sei È un gatto normale E una razza di gatto Perché c'è le razze Eh mi sa che È razza Sì sì Perché questo Non è un gatto normale Perché questo Vai in giro E leggete la ruba Subito Speriamo di no Speriamo di no Gilbe Davvero grazie Il fratello Grazie Ciao fratello Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi È un grande ragazzi È un grande È un grande È un grande ragazzo 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 È un grande ragazzo